In questo video... Accidenti, già avevo la batteria al 10% Non sapevo dove metterlo in carica Oddio, chi è quello? Oddio, chi è? Oddio, un filiforme! Un filiforme agitato, madonna! Sclerato duro, senti come strilla! Proseguiamo, qua c'è una se... No, 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 no! Bah raga e benvenuti in questo nuovo, orribile, video! Quello di oggi, signori miei, sarà un video un po' particolare Perché andremo a provare un gioco mai visto su questo canale E sicuramente, come avrete visto dal titolo e dalla copertina È un gioco sulle backroom Questo in particolare si chiama Backroom 8 Level Quindi suppongo che ci siano 8 livelli di backroom E per chi non sapesse che cosa sono queste backroom Le backroom sono questi labirinti Che si estendono per una superficie indefinita Con pareti tutte uguali Penso che abbiate tutti in mente l'immagine di quelle backroom Tutte gialle, con quei muri un po' puntinati In cui all'interno, spesso e volentieri Ci si possono trovare diversi mostri E diversi brutti soggetti Che tentano di dare la caccia a noi Che cerchiamo di andarcene Sì, perché in teoria è possibile uscire dalle backroom È possibile scappare Ed è proprio quello che proveremo a fare nel video di oggi Con il primo livello di questo gioco Particolarmente orribile Dunque signori miei Arriviamo almeno a 350 like Per il prossimo video delle backroom Io direi di non perdere troppo tempo Dunque caliamoci in questi corridoi particolari E vediamo se riusciamo a trovare l'uscita Buona visione Ed eccoci qua signori Nella schermata principale di backroom 8 level Io direi di non perdere troppo tempo E andiamo su new game Vediamo un po' cosa ci aspetta Oh bene Ci risvegliamo in un ufficio molto accogliente Con questi Come ho fatto a salire sul tavolo Oddio guarda, guarda, guarda Guarda salgo sul tavolo Oddio in piedi sul tavolo Maleducatissimo proprio Guarda queste televisioni Tutte pixelate, particolari Questo è un ambiente piuttosto accogliente Signori miei Non direi mai che questa è una backroom Però se non sbaglio C'è addirittura un livello delle backroom Ambientato in degli uffici In cui ci sono tutte queste stanze Tutte uguali Tutte un po' angoscianti Ah ecco Eccoci infatti Sicuramente il primo livello Comincerà dal momento in cui io Varcherò questa arcata Perché come potete vedere Qua comincia questo labirinto Labirintico Con questa moquette gialla Quindi andiamo avanti Vediamo un po' Cosa succede Oddio Oddio le luci che sfarfallano Cos'è? Oddio i cessi I cessi scagazzati Oddio guarda Guarda c'è un uomo scagazzato per terra Madonna tutto disegnato sul muro E che è successo qua dentro? E quello chi era? Chi era quell'uomo? Quella silhouette Tutto sorridente Madonna così Tutto con i denti digrignati Comunque come potete vedere Ci siamo ritrovati catapultati Direttamente Nel livello delle backroom Sento già la pressione fiscale Sulle spalle Speriamo di non trovare nessuno Per il momento Sembra che non ci sia Nessun brutto ceffo Oddio guarda C'è scritto Help Oddio un alieno Guarda Ho la testa di un alieno Find a way out Guarda Ah posso zoomare addirittura Find a way out Trova una via di uscita Left Lì c'è scritto Left Dobbiamo andare a sinistra Però io là a destra Vedo una cosa Piuttosto particolare Cos'è questo? È un rito satanico E che è successo qua? Hanno caccato su tutto il muro Proprio hanno fatto la cacca Poi non avevano la carta igienica Per pulirsi il c***o E hanno lasciato le sgommate sui muri Questo è uno stemma satanico Bello e buono Eh signori miei Qua è successo veramente Un bel rito esoterico Aspetta C'è una presa della corrente C'è una presa della corrente Meno male che c'è la presa della corrente Posso caricare il telefono Per fortuna Accidenti Avevo la batteria al 10% Non sapevo dove metterlo in carica Oddio chi è quello? Oddio chi è? Oddio 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 Ma cos'è successo? No Aspettate un attimo Deduco di essere morto Perché sono ritornato all'inizio del livello Comunque prima siamo andati a destra Se non sbaglio Eravamo andati di qua? Non mi ricordo Eh ma chissà dov'è l'uscita Per questo luogo Per questo luogo criptico Per queste criptiche Madonna Tutto giallo Tutto identico Ah era di qua Vedi sì Perché c'è la scritta Find a way out Quindi era di qua Qua è tutto buio Adesso voglio andare di qua Left te lo scordi Adesso vado di qua io C'è un uomo morto Scacazzato arancione Un uomo con la tuta arancione Che si è cacato addosso Oddio Oddio Sono entrato dentro il corpo morto Guarda c'è una faccia Una faccia brutta Di un uomo brutto Andiamo avanti Lasciamo perdere questa situazione Un po' particolare Sto sentendo il filiforme No 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 Madonna mia Mi ha visto in un pixel Madonna Un mio capello solo Sporgeva da quell'angolo Oddio ho trovato l'uscita forse Forse ho trovato l'uscita Dai corri 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 Che c'è il filiforme Corri Corri Madonna Dai ma dove sono Ma che cos'è C'è un filiforme Che mi insegue Dove sto andando Dai mi ha ammazzato di nuovo Madonna guardalo con quelle gambine Tutte puntinate Di obono degli stuzzicadenti neri Piantati nel terreno Così madonna Così Signori miei Situazione parecchio stressante Devo dire Comunque abbiamo un riscontro Perché abbiamo trovato Quel corridoio Che sembrava essere Una sottospecie di via di uscita Perché addirittura C'era una freccia Che ce lo indicava Quindi Io direi Di ritentare E di andare di nuovo Da quel lato Madonna Queste lampade Veramente Sono ansiosissime No 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 L'avete visto anche voi L'avete visto L'avete visto che madonna C'era il filiforme In piedi lì Che mi aspettava Madonna Ad aspettare il treno Era lì con il suo biglietto Del treno in mano Ad aspettare che gli venisse Controllato Oddio Una cascata di squarra Una squarra nera Su questo muro Con questo triangolo Degli illuminati No no È di qua È di qua Lo sento Lo sento che fa casino Sento che madonna Sgrugnisce Sgrugna Ma non c'è modo di evitarlo Ok non c'è più Non c'è più Andiamo avanti Ma dove ero andato io prima Non me lo ricordo Non mi ricordo Dove ero andato No escape Però qua è un po' diverso Qua ci sono i muri Che sono più giallocra Che giallo canarino Mi sembra una zona Parecchio diversa Da quella di prima Forse è qua Che devo andare Madonna Che ansia Signori miei Che ansia Questa situazione Aspetta 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 Che cos'è Che disegno è È un alieno White Go deal Ma cos'è che c'è scritto Su questo muro Ma che scritte sono È scritto in Turkmeno Aramaico C'è una freccia C'è una freccia Vedi Vedi quella freccia là Quella è una freccia E le frecce di solito Indicano Il luogo in cui Bisogna andare Quindi secondo me Bisogna andare di qua Vediamo un po' Vediamo Un corridoio lungo 50 km Meglio che corro Dai corri 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 Alza il passo Alza il passo Prima che arrivi Il filiforme Ok Ok Non è Lo stesso rialzo Di prima Però è un rialzo Quindi io ci salgo Tra l'altro qua I soffitti sono alti Il doppio È tutto più alto Madonna Guarda che strana zona Che strana ambientazione Sì è diverso signori miei Secondo me sono riuscito A proseguire Ad andare avanti Però non vedo Il filiforme Il che potrebbe Essere Una cosa positiva Come una cosa negativa Perché lui mi ha visto Mi ha visto E era logico Che mi vedesse Era ovvio Devo correre di qua Corri 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 Madonna dove sono Ma guarda Non sta in piedi Non sta in piedi Madonna A momenti cade di sotto Da solo Ok Ok Ho seminato il filiforme Sembra che non ci sia più No non lo vedo Non c'è più Ok C'è una luce che lampeggia Laggiù in fondo E c'è un uomo morto Lo vedete Quell'uomo morto Quel corpo Senza vita Questo non è bello Signori miei Non è per niente Bello Oddio Questo neon Che lampeggia E altre scritte No escape Ma basta dirmi Che non c'è l'uscita Evidentemente Un'uscita ci deve essere Perché No non ci deve essere Sono io che la sto cercando Ma potrebbe anche Non esserci un'uscita Potrei essere Intrappolato qua dentro Per sempre Con quel maledettissimo Filiforme Eh ma quindi Dove devo andare io No non mi dire Che devo tornare Di là dal filiforme Non ci sto Non ci sto Ah qua Qua c'è un'altra No è pieno di uscite È pieno di uscite Ma dove vado Vado a sinistra Perché vedo Questo quadro strano Questo buco nero E io spero Di non incontrare Quel filiforme Perché madonna Veramente Mi mette un ansia Allucinante Io non voglio Più vederlo In vita mia Quel brutto Schifoso L'ho visto due volte Per quattro secondi E mezzo E mi ha Destabilizzato Veramente In una maniera Incredibile Oddio Oddio Che disegni No 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 c'è una porta Però c'è una porta C'è una porta Chiudi la porta No non chiude la porta Però Sono uscito Sono uscito Sono riuscito A scappare Dove mi trovo Madonna C'ho tutta la vista Appannata Dov'è che sono Le mie lenti A contatto Ah dovevo Semplicemente Diszoomare Va bene Signori miei Va bene Madonna Eh però Qua la mochetta È sporca Vediamo Qua c'è un telefono Posso chiamare I carabinieri Posso chiamare I pompieri Che mi vengono A prendere In questa brutta Situazione In cui vorrei Evitare Di starci Anche solo Un secondo Di troppo C'è l'acqua C'è l'acqua Fammi bere Dammi l'acqua Dammi l'acqua Ma poi quanto è alta Questa colonnina Dell'acqua Madonna Guarda Il boccione È sopra la mia testa C'è una scritta C'è una scritta Table is moving I tavoli si muovono E dove vanno I tavoli Qua ci sono Dei computer Madonna Guarda Guarda Che tastiera Da gaming Con questo mouse Poligonale Con questo mouse Tutto squadrato Madonna Tutto poligonale Allora A questo punto Andiamo avanti Proseguiamo Qua c'è una No 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 Ma 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 no Ma no Ma perché Ma perché Ma senti come strilla Madonna Niente Ci mancava solo Che esplodevano le sedie E compariva il filiforme Ci mancava solo questa Veramente Prima Per fortuna Era lì che girovagava Si faceva gli accidenti suoi Ogni tanto lo incontravo Però bene o male Riusciva a scappare Ma se Diobono qui Esplodono le sedie Proprio scoppiano le sedie Guarda 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 Santissima Madonna Madonna Beata Senti Madonna C'ha l'asma Sto filiforme Ma vatti a far curare Mi è venuta sete Devo bere Madonna Stavo morendo Veramente Ho bevuto il caffè Mi si sono asciugati Anche i piedi Allora Abbiamo capito Che quando vediamo Quella sedia Noi proprio Dobbiamo andare Da un'altra parte Ce ne dobbiamo andare Perché quella sedia Totalmente a caso Esplode Esplode E compare Sto stecchino Filiforme Brutto Ecco Quella è la sedia incriminata Quella è la sedia maledetta Ah vedi Però se gli giro lontano Se giro A debita distanza La sedia Non esplode E non compare Il filiforme Di conseguenza Io però Vorrei sedermi un attimino A far riposare i piedi Perché C'ho i calli E dopo un po' Mi fanno male Posso farlo? Di sicuro Non mi vado a sedere Su quella sedia esplosiva Laggiù in fondo Questo sicuramente Non lo farò Ah qua ci sono Dei fascicoli Delle bibbie Qua ci sono Delle sacre bibbie Ma a noi Al momento Non interessa Leggere la bibbia Quindi proseguiamo Procediamo Per la nostra strada Ah ci sono Delle scale Andiamo Al piano superiore No No Ma 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 proprio No Ma non è Ma perché Dai Ma adesso Mi farà Un mazzo Grosso Come una casa Mi stai dicendo Che l'ho seminato? Mi stai dicendo Che ho seminato Lo stecchino A filiforme? Bene signori miei Molto bene Onestamente Onestamente Tu ti lamenti Io personalmente Non mi lamento Quindi Andiamo avanti Figurati 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 Madonna Figurati Figurati Ma sentilo Senti Che versi Fa No Da capo No Da capo No Da capo No Da capo Madonna Madonna Mi vorrei Strappare i capelli Quei pochi Che mi sono rimasti In testa Ok Come vedete Siamo già giunti Alle scale Io lì Non ci vado Vedi Vedi lì Lo vedi Tu Tu che stai guardando Il video No Non tu Quello di fianco Sì Anche tu Lo vedi lì Io lì Non ci andrò Perché lì Compare il filiforme Questo cos'è Tipo Un tavolo Incastonato Vabbè Allora Se non sbaglio Ero andato di qua Se non sbaglio Era qui Che mi ero Gettato Al piano inferiore Ed era sempre qui Che era comparso Il filiforme Ok Ok Questa volta Non è comparso Sapete che Io ho una teoria Secondo me Gli oggetti Che si illuminano Come quel monitor Lì Esplodono Quando ti avvicini E fanno comparire Il filiforme Cos'è quella roba Lagiù in fondo E ma vedo sfocato Però ci sono le frecce Che indicano Di andare verso di là Quindi andrò Verso di là No seriamente Cos'è che è quel robo A me quello mi sembra Il filiforme O no No Non è il filiforme È un È una sbrenga Cos'è che è Ah è È il boccione Dell'acqua Dai Devo trovare l'uscita Voglio uscire Dagli uffici Voglio uscire Dal mio posto di lavoro E andare a casa A mangiare la pasta Con la cipolla Qualcuno qua Mi saprebbe Indicare l'uscita Forse il filiforme Saprebbe Indicarmi l'uscita Ma io non voglio Parlarci con lui Non voglio averci a che fare Eh qui potrebbe essere L'uscita effettivamente Signori miei Questa potrebbe essere L'uscita No Che cos'è sta roba Ma che cos'è sta roba Ma è un palazzo A duemila piani Guarda Non vedo di sotto Mi butto di sotto Ci proviamo Qual è il gradino più basso Mi sembra questo qua Ah mi devo buttare qui Oddio 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 Mi dovevo buttare Dalle scale Per davvero Signori miei Che intuito Che intuito Ma cos'è sto livello No Questo è bruttissimo Signori miei Questo mi mette un'ansia primordiale Ma che cos'è Signori miei E termina così Questo primo episodio Di Backroom 8 level Siamo riusciti a completare Due livelli E Se devo dirla tutta Sembrerebbe anche Senza troppe difficoltà Però devo dirvi che è il livello in cui siamo giunti Che vedremo nel prossimo episodio Così di primo acchitto Mi mette un'ansia incredibile È bruttissimo È tutto logorato Madonna una fogna Chissà chi sarà il mostro Che ci darà la caccia In questi corridoi Bruttissimi Elogorati Signori miei Chissà chi sarà Spero non il filiforme Perché mi sembra che ci abbia Rotto i cosiddetti Fin troppo Fino adesso Dunque signori miei Arriviamo almeno A 350 like Per il prossimo video Di Backroom 8 level Fatemi sapere Con un commento Cosa ne pensate Di questo gioco Io Se devo dirvi Le mie prime impressioni Mi piace E soprattutto Fatemi sapere Se per caso Qualcuno di voi Ha giocato questo gioco E magari Riesce a darmi Anche qualche consiglio Su come procedere Nei prossimi livelli Ma soprattutto Non dimenticate Di iscrivervi A questo Orribile Canale E Signori miei Se vi piacciono I miei contenuti E volete supportarmi Considerate addirittura Di abbonarvi Al mio canale Perché Alla modica cifra Di 99 centesimi Avrete L'esclusivo Vantaggio Di vedere In anteprima Tutti i miei contenuti Prima che Escano Sul canale E che vengano Resi pubblici Comunque Io vi ringrazio Per essere stati Qui con me Fino adesso E ci si becca Al prossimo video Addios Ma passiamo ora All'angolo Dei saluti Ovviamente Recupero Prendo in mano Mi munisco Del mio telefonino Bucato Spaccato Perché Anche questa volta Signori miei Ho una lista di Bro da salutare Veramente non indifferente Una lista infinita Dunque Direi di non perdere tempo E cominciamo Con i saluti di oggi Saluto Emanuele Franco Leoni 8306 Valdis Basics Arterx2 Gameboy Pro Il minecraftiano Selvatico Franco Leoni 8306 Meljack I coi cocchi Poligonali Emanuele Emanuele Non frz 8205 Gabriele Agosti Italy Mela verde bosniaca Miki Mouse rotto Sergente poligonale vecchio 3021 3021 1 Il sergente col fucile Stavin 10 Gattoromi Giuseppe La Rocca Brawl Stars OGP Christopher Ottaviano Brando Daniele Edo The Gamer 11 The Rock 9977 Robin Leonardo 1970 Angela Lombardi 7952 E Slendrina Trattino Basso Fottiti Signori miei I saluti di oggi Sono terminati Se ho dimenticato Di salutare qualcuno Mi raccomando Ricommentate Con l'hashtag Angolo dei saluti E di fianco il nome O il nickname Con il quale Volete essere salutati Io Appunto Come sempre Vi saluto E ci si becca Al prossimo video Addios